27 apparizione 8 dicembre 1987 figli carissimi vi amo immensamente questo è il mio sentimento maggiore che provo verso voi però manifesto anche il mio dolore troppe offese sono arricate al mio cuore immacolato pochi sono coloro che offrono riparazione ricordate ciò che dissi precisamente un anno fa infatti ho promesso l'assistenza nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza a chi ogni primo sabato di cinque mesi consecutivi si sarebbe confessato e comunicato avrebbe regitato il rosario e soprattutto mi avrebbe tenuto compagnia per un quarto d'ora meditando i misteri col fine di offrirmi riparazione raccomandai anche il digiuno per la pace nel mondo madonna perché solo per cinque mesi e non di più perché sono cinque le offese dirette al mio cuore le bestemmie contro la mia immacolata concezione contro la mia verginità il rifiuto di riconoscermi madre di dio e degli uomini l'opera di coloro che infondono nel cuore altrui l'indifferenza e l'odio contro di me l'opera di coloro che mi offendono direttamente delle mie immagini sacre invito ognuno di voi a diffondere questa necessità di confortare e consolare la vostra madre sarebbe per me una cosa gradita se ogni vostra famiglia si consagrasse al mio cuore immacolato impegnatevi a riparare gli oltraggi e le indifferenze arrecate al mio cuore da questo momento vi affido il compito di difensori e riparatori del mio cuore benedico ognuno di voi e le vostre famiglie in particolare vi prometto che se accetterete il compito che vi ho affidato avrete la grazia della conversione preghiera riparazione penitenza grazie